Ho deciso, trasloco, lascio Bosco Benno e nessuno potrà impedirmelo. Allora signor Bopo, è sempre dell'idea di lasciarci. Oh sì signor Ambroglio, parto, vado in un nuovo paese, un paese meraviglioso, un paese dove quelli della mia razza vivono felici. Io credevo che al mondo ci fosse solo Bosco Bello. Ignorante che non è altro, non conosce dunque lo zuccherificio? Lo zuccherificio? No. Lo zuccherificio si trova tra altri due paesi, la confetteria e la pasticceria. Il fiume principale è il fiume Caramella, attraversa la foresta chiamata Zucchero Filato, numero di abitanti zero fino a ieri e uno a partire da domani, e cioè io. Oh beh, arrivederlo allora signor Bopo. Addio. Addio, non andrò affatto così, andrò a parlare alla signorina Gigia. Oh, in fondo volevo bene a quell'umacone, mi mancherà un po' all'inizio. Oh, no, lasciamoci in tenere vive. Oh, no, lasciamoci in tenere vive. Non è possibile, Bobo non può lasciare Boscobello. E invece è proprio quello che vuole, girando sole. Bisogna impedirglielo. Uno, due, tre. E così sto per lasciare Boscobello. Peccato che non abbia salutato Gigia. Oh, che combinazione, pensavo proprio a lei. Polizia, documenti. Documenti. Ma mi conosce, sono io, Bobo. O come dice lei, Lobo, Grobo, Bobo. Non so nemmeno più come si chiama. Documenti. Eccoli. Scaduti. Come scaduti? Scaduti. Hanno più di dieci anni. Dietro, pronto. Questa poi... Arrivederla, signorina gente. Non c'è che Ambrogio per sistemare una cosa. Bisogna che... Alt, Togana, qualcosa da dichiarare? Oh, caro Ambrogio, pensavo proprio a lei. Dicevo... Signor Toganiere, prego, vuoti la sua auto. Ma insomma, signor Toganiere, non sono andato all'azuccherificio. Sono scaduto. Se lei è il signor scaduto, allora io sono l'imperatore di Borgogna. Oh, e questo che cosa sarebbe? Signor Toganiere, a me sembra zucchero. E sostiene di non essere andato all'azuccherificio? Ma io le dico che sono scaduto. Confiscato. Oh, mio zucchero. Allora, Bobo, vuoi lasciarci? Non voglio lasciarti, cara Margherita. Volevo solo andare allo zuccherificio. Ma non c'è verso di passare. Prima la polizia, poi la dogana. Sistemeremo tutto. Bip, bip, bip. Ho sentito tutto. Girando frutto, trasporterò lo zuccherificio qui. Girando lì. Ecco fatto. Oh, formidabile, bip, bip. Ho deciso. Resterò qui. Ah, vedi Margherita, in fondo non volevo partire. Sapevo che usando questo stratagemma, bip, bip avrebbe fatto una magia. Ah, e ora a tavola. Non è bello quello che hai fatto, Bobo? Oh, ma era una falsa partenza. Che cos'hai? Era un falso zuccherino. Al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti.